Dunque questo sette colli è stato un po' così, nel senso che mi aspettavo, i tempi che ho fatto non sono eccezionali, ma comunque sto lavorando tanto e quindi mi sta ogni tanto sentire un po' di pesantezza, non si può essere sempre al top tutto l'anno. Quindi sono comunque contenta del modo in cui ho gestito le gare come le ho affrontate e sicuramente tra un po' inizierò a scaricare, con un po' più di pesantezza e leggerezza uscirà sicuramente qualcosa di meglio. Ringrazio.